Musica Osequi, osequiosi, siamo qui oggi riuniti per i most played del mese di dicembre 2014 in collaborazione con le mie solite colleghe Golden Violet e Ornitorella nei quali troverete i link qui sotto come sempre allora, cominciamo subito perché come al solito le cose sono tantissime molte cose saranno simili a quelle del video scorso perché comunque io sono stata a Bruxelles fino al 29 di dicembre e avevo più o meno sempre le stesse cose a parte delle cosine che ho acquistato poi nel frattempo quindi questo è se vedete questa luce molto sparafricciata dovete ringraziare Giuneraglio che mi ha regalato la luce da usare con la reflex quindi speriamo che i colori li vediate bene allora, tanto per iniziare volevo iniziare con il fondotinta che ho acquistato relativamente di recente e che mi incuriosiva da parecchio allora, ho lasciato come una cretina il mio Estée Lauder nuovo su in Belgio però mia madre me lo sta mandando quindi ho detto, un'ottima occasione per provare qualcos'altro e quindi sono andata in profumeria ed ho trovato nella profumeria Liss che si trova in via Baglioni a Perugia ho trovato la Dolce Gabbana io non pensavo neanche che la temessero sinceramente pensavo che qui a Perugia fossimo degli inetti e quindi non potessimo averla e ho quindi acquistato dopo averlo provato nella boccetta fa molto più paura in realtà è quello che sto indossando adesso e come vedete non ci sono stacchi è questo qui e si chiama The Foundation Perfect Luminous Liquid Foundation appunto del Dolce Gabbana il mio colore è Caramel 110 ed è veramente un buon fondotinta allora, ha una coprenza media nel senso non ha una coprenza molto molto elevata come può essere quella del Double Wear però ha una coprenza media un finish molto setoso al tatto però va comunque incipriato questo ve lo voglio dire e poi ha una discreta durata non mi posso lamentare certo, tutto in confronto al Double Wear DS Loader ha una durata, come dire, scarsa perché ovviamente il Double Wear te fa 12 ore senza problemi te strucca e ancora lo trovo quindi tutto può essere mediocre in confronto però questo devo dire che è molto molto scusate mi ha molto sorpresa pensavo che, sapete queste marche che si lanciano in queste cose, pensavo che fossero un po' scarse invece in realtà è davvero ottimo proverò probabilmente anche altro poi, per quanto riguarda invece il correttore ho utilizzato moltissimo infatti si sta creando il buchino non so se... ecco, si lo vedete il camouflage di Make Up For Ever questo è sempre il numero 15 quello che ha un po' di arancio dentro e lo utilizzo... infatti lo vedete che è arancio e lo utilizzo sotto ad un'altra cosa e quindi l'altra cosa in questione questo mese è stata il... che scatto felino è stata il correttore Double Wear di S-Rodder che voi già conoscete, ve l'ho già fatto vedere lo utilizzo sopra a quello di Make Up For Ever poi, forse ho trovato la mia cipria Graal per quanto riguarda le occhiaie o comunque per quanto riguarda la zona perioculare è questa qui di Laura Mercier mi direte mh, hai scoperto l'acqua calda? ebbene sì questa è la Secret Brightening Powder Poudre Le Veneuse Secrete numero 2 però perché la numero 1 è bianca e invece questa è leggermente giallina non la vedrete mai non si vedrà mai perché secondo me è troppo chiara per vederla comunque è questa qui benissimo che cosa è successo? io sono andata a Bruxelles in una profumeria che vende Laura Mercier e ho visto, sapete quel kit che ha due correttori al piano di sopra cioè un barattolino ha due correttori sopra e questa polvere sotto mi sono detta mh, chissà se la polvere si può comprare separatamente e infatti così è stato perché sinceramente i correttori che ci stavano sopra io me li sono fatti provare addosso e non è che mi abbiano particolarmente entusiasmata inoltre io ero veramente alla ricerca di una cipria che mi potesse aiutare a non far ingrigire le occhiaie una volta fissato il correttore e questa fa egregiamente il suo lavoro perché? perché all'interno ha dei leggeri cioè delle particelle luminose che non definirei glitter perché sono veramente minuscoli però sono proprio quelle pagliuzze che riflettono la luce e vi permettono di illuminare un pochino meglio questa zona qua comunque cipria sempre questa ormai la essence mi dà la premio per la costanza e la fedeltà e poi per quanto riguarda invece bronzer e blush abbiamo dei nuovi arrivati nel mio D di fiducia il D è praticamente il Tigotà o l'acqua e sapone belga abbiamo un nuovo arrivato cioè Physicians Formula che se non mi sbaglio è arrivato anche in Italia credo in alcune coin in scarpe scarpe e via discorrendo quindi la potete trovare anche in alcune zone d'Italia ed ho quindi preso questo qui che sarebbe il Magic Mosaic Bronzer e credo che il colore sia 2459 e Light Bronzer sì questo qua allora vi dico la verità è molto 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 chiaro a volte non si vede neanche su di me che sono comunque chiara quindi se magari siete un po' più olivastre non scegliete questo colore e poi ho preso il Happy Booster cioè il classico tipico conosciutissimo blush con i cuoricini e questo qui si chiama 7324 cioè 7324 e Natural scusate i miei vicini perché chiaramente non possono passare dal collettore senza fischiettare urlare certo e quindi questo è molto molto carino la confezione è adorabile poi ogni confezione ha sotto lo specchietto e il pennello a seconda di quello che serve insomma ne dobbiamo aspettare no ma con calma tranquilli ma tanto che c'è un'altra cosa questo però è recente me l'ha regalato Giuneralio per Natale è il Porefessional questo qui Agent Zero Shine che praticamente sarebbe una polverina voi aprite questa parte qui con i buchini tra l'altro molto interessante il fatto che si possa sia aprire che chiudere in questo modo così se lo trasportate non vi perde tutta la polvere lo mettete nel vostro tappino questo qui e poi con il pennellino che si apre da sotto eccolo qua ve lo andate a spatasciare sulla faccia la cosa molto interessante è che si può mettere sia come base quindi sotto il fondotinta dopo la crema editante sia poi in realtà con il trucco già addosso quindi come ritocco è molto carino perché occupa secondo me in una borsetta poco spazio come potete vedere non potete ficcare un angolo della borsa e soprattutto tutto quello che serve è qui dentro non dovete avere un pennello cioè non dovete portarvi il kabuki da borsa certo serve lo specchio perché qui dentro non ce l'hanno messo male benefit male poi per le sopracciglia sempre le stesse cose ormai dai ditele insieme a me l'acqua brow di make up forever nel colore 35 brave poi la prossima volta vi interrogo e il clear brow gel di Anastasia Beverly Hills che tra l'altro penso che ormai sia agli sgoccioli dovevo trovare un sostituto e la cosa mi fa paura perché non vorrei tornare allo speed brow di Benefit perché costa una fuscilata quindi vorrei trovare una cosa perché ne ho provati tanti ho provato quello di Essence non mi faceva niente ho provato quello di H&M non sono neanche riuscita a finirlo perché non mi faceva niente neanche quello cioè era acqua fresca praticamente a sto punto sto meditando il gel per i capelli sto scherzando poi per gli occhi invece passiamo agli occhi questo qui che è il behind the scenes eye primer di Lorac questo qui veniva cioè era nella confezione della Lorac Pro e il video che mi ci sto trovando molto bene è molto molto simile questo ve l'ho già detto è molto molto simile alla eye primer potion di Urban Decay quella classica poi quindi se vi piace lo stile e volete provare una cosa di Lorac questo è valido insomma poi sempre come basi tra virgolette l'India Nude questo qui di MAC il Paint Pot guarda come si vedono ben i colori va un po' guarda 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 come si vedono ben i colori non so perché mi è veduto questo accento lasciate perdere no com'è che dice Chiara asemo perder una roba del genere comunque ciao Kaiukai questo qui mi è la rega la tornella per il mio compleanno è bellissimo lo uso con moltissima parsimonia perché veramente è bellissimo poi mi sono comprata come già sapete a Bruxelles il Softalker questo qui ormai loro sono diventati dei Paint Pot Pro Longwear quindi li potete ma questo qui è comunque impressionante nel senso che voi lo potete mettere sulla palpebra si asciuga istantaneamente nel senso che non avete bisogno di passarci l'ombretto sopra perché se volete la palpebra nuda semplicemente come si dice uniformata insomma semplicemente di color carne potete ficcare quello madre di dio sono puliti ve lo giuro potete ficcare semplicemente quello e vi fa una palpebra nude dove potete mettere un bel eyeliner colorato o non insomma quello che vi pare lei è stata la mia grande alleata di questo mese di dicembre ormai la conoscete è inutile che ve ne parli ancora di più la potete trovare teoricamente se c'è ancora la potete trovare sul sito Rosy's Beauty per l'Europa ha dei prezzi terribili quel sito cioè proprio terrificanti però almeno ha delle cose veramente veramente fighe che qui in Europa non possiamo trovare come anche la Lorac Pro se mi ci cioè ero andata a vedere qualche tempo fa per la Lorac Mega quindi quella proprio grossa però non c'era più era già finita speriamo che l'abbiano riassortita non so se fosse una limited però poi sempre per quanto riguarda gli occhi sapete che mi sono comprata dei pigmentini di MAC quindi uno che indosso oggi in questo momento è Naked che è questo pigmento qua che serve praticamente un color carne con degli sporadici glitterini oro molto molto piccolini però insomma se non vi piace l'effetto basta che lo mettete sulla palpebra ovviamente con sotto la base cremosa perché se no non aderisce bene e poi ci passate anche sotto qua ci passate con il pennellino da cipria per levare i brillantini però il colore rimane quindi questo e poi rose che è questo colore qua che ci piace tanto e old gold che ci piace tanto pure questo sono veramente dei bellissimi colori questi qui sono le confezioni poi tra l'altro sono rimasta sorpresa perché sono in vetro io pensavo che fossero di plastica poi matite come matite abbiamo ovviamente la nabla bombay black questa always and forever almeno finché non trovo qualcosa di ancora più figo ma questa mi sta piacendo veramente tanto questa è già la seconda o terza che li compro poi questa che ormai conoscete la mia le crayon col nel colore claire di chanel questo qua che è praticamente il color carne che io utilizzo all'interno dell'occhio quando magari voglio solo un semplice eyeliner rapido un trucco molto sobrio e poi questa qui che non vedevate più da un po' però che ho riacquistato tantissime volte è la Wicon long lasting eyeliner nel colore emerald green 04 e questa qui io ve la risuoccio giusto per il piacere di farvela rivedere vi faccio una bella porzione qua eccola è veramente questa matita è veramente veramente figa e per chi ha gli occhi marroni è strepitosa che ve lo dico a fa ok poi eyeliner sempre questo qui di essence il liquid eyeliner questo qui waterproof mi sta finendo spero di trovarlo ancora il negozio mi auguro comunque mi è piaciuto tanto questo e poi come mascara questo qui il grandiose di l'ancome questo qua che mi sta piacendo assai ed è questo con questo scovolaino un po' particolare ve l'avevo già fatto vedere eccolo qua che è questo scovolaino molto pratico per mettere il il mascara insomma molto pratico e vi volevo dire che questo questo mascara ha praticamente una durata paragonabile al The Realty Benefit non so se ve l'avevo già detto ma ve lo voglio ripetere perché è resistente quasi come un waterproof quindi è molto molto consigliato specialmente se vi lacrimano gli occhi perché per esempio io l'altro giorno mi sono dimenticata totalmente di bagnarmi le ciglia prima di struccarmi con il take the day off e ho avuto difficoltà a toglierlo questo quindi ho dovuto ripassare massaggiare bene con il take the day off sulle ciglia perché non riuscivo a toglierlo perché secondo me umidificarle un pochino prima serve sempre anche se è un waterproof almeno ammorbidisce un pochino la texture del mascara quindi serve sempre un pochino umidificare poi per quanto riguarda le labbra non ce l'ho qui in questo momento per farvi vedere perché sono nella borsa buttati là quindi sono dimenticata di prenderli prima di fare questo video quindi perdonatemi ma per le labbra l'hanno fatta da padrone i rossetti quelli long lasting di Wicon magari vi metto una fotazza qua o qua sopra insomma specialmente il rosso ciliegia che per le feste era preciso era proprio spettacolare e quindi niente insomma quello dovevo non poteva mancare so che saranno in vendita dalla primavera credo dalla primavera del 2015 con nuovi colori e credo che mi hanno detto che entreranno in permanente quindi abbiate pazienza poi vi volevo far vedere giusto così passando questa bellissima trousse che mi sono comprata adesso che stavo su che trovo molto molto carina dentro ha delle tasche insomma ha una tasca centrale e poi è tutta unita c'è questa tasca qui centrale ha un buco sotto è tutta una pochette e poi c'è questa qui in mezzo è molto molto carina mi è piaciuta l'ho usata per riporre come vedete è cerata cioè è impermeabile e mi è piaciuta mi è piaciuta quindi l'ho vista nel negozio ma vabbè questa me la prendo questa mi piace e niente questo è quanto io vi mando ah una cosa vi volevo segnalare questo qui se non avete un kabuki e volete un kabuki vi serve lo volete regalare vi volevo segnalare questo kabuki della gardenia è sporco perché l'ho utilizzato io l'ho ricevuto in regalo con degli acquisti dopo un tot di acquisti si potrebbe scegliere un pennello e ho preso questo qua e non è male per niente è molto morbido non ha nulla da invidiare a grandi marche quindi questo se vi può servire dategli un'occhiata a questo qua niente non so quanto costi sinceramente però posso vedere se la gardenia ha un sito non so adesso vediamo questo è quanto io saluto le mie colleghe saluto anche tutte le altre ragazze che si sono aggiunte nel frattempo al team most played vi mando un commento e vi dico alla prossima ciao